Bentornati all'ascolto dei miei audio su Matrimonio a Prima Vista Italia 2021. Anche per Santa e Salvatore è arrivata la resa finale e si sono presentati entrambi davanti agli esperti. La loro decisione chiaramente era palese e ovvia. Entrambi hanno continuato ad accusarsi l'uno con l'altra di non essersi comportati in modo adeguato. Però Santa aveva già affermato, non in presenza di Salvatore, di non essersi mai sentita moglie e che questa parola non le appartiene assolutamente. Ritiene che non le sia per niente cucita indosso. Questa è la prima dimostrazione che lei non ha creduto e non si è sentita fin dall'inizio pronta e coinvolta in questo matrimonio. Anche se si tratta di un gioco, diciamo, è un gioco ma è un reality che doveva essere affrontato con uno spirito di adattamento anche diverso rispetto al comportamento che ha avuto Santa. Salvatore infatti viene accusato da lei in continuazione di essere stato impaziente, di essere stato aggressivo e di non aver saputo far niente per togliere quel blocco che il secondo giorno lei ha praticamente iniziato inaspettatamente a provare. Salvatore da parte sua invece dice che tutto ciò che ha fatto, lo ha fatto per provare ad avvicinarsi a lei, non è servito, non è stato utile perché lei, sempre distaccata e indisponente, rispingeva anche la sua avvicinanza e rifiutava di guardarlo negli occhi. Questo infatti lo ha dimostrato anche durante questo incontro quando gli esperti stessi li hanno invitati a scambiarsi uno sguardo. Santa oltretutto ha parlato male di lui per settimane e gli ha impedito proprio di potersi esprimere al meglio. Quello che Salvatore ha imparato però da questa esperienza è che si è reso conto che in qualunque situazione si trovi e davanti a qualsiasi persona deve sempre essere in grado di difendere prima di tutto se stesso. Nello specifico dice che dopo aver fatto più volte un esame di coscienza non si sente di avere niente da rimproverarsi. Mentre d'altra parte Santa addirittura si arrabbia e si sente offesa quando Salvatore è in merito ai consigli del padre che ne avrebbe detto che invece di regalare i fiori alla figlia avrebbe dovuto comprarle dei gioielli, degli anellini oppure invitarla fuori a cena, lei innervosita si toglie la fede, la lascia sul divano e se ne esce senza salutare nessuno. A quel punto a Salvatore non rimane altro che seguire le sue orme quindi anche lui si toglie la fede, la lascia sul divano, lui però eduatamente saluta ed esce. Entrambi una volta terminata questa esperienza si sentono finalmente liberi di poter vivere una vita lontani l'uno dall'altra dato che sono stati sinceramente legati da un nulla che le ha portati soltanto a una grande delusione e sofferenza. Vi invito a lasciare una vostra opinione personale tramite commenti perché mi farebbe piacere sapere quello che pensate esattamente di entrambi. Spero comunque che Santa abbia perlomeno il buon senso di rivedere tutto il suo percorso nei video per poter capire veramente di come si è comportata perché non ha acquisito una consapevolezza secondo me a riguardo. Bene, con questo vi saluto e vi invito ad ascoltare il prossimo audio nel quale parlerò di Martina e Francesco. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati in tempo reale sulle ultime news. Grazie.